Il Piemonte esposa il pensiero del governo ed è pronto a prolungare la quarantena degli abitanti oltre al 3 aprile, una misura che si rende praticamente necessaria vista le catombe di morti che si sono registrati negli ultimi giorni, cento in più solo negli ultimi quattro. E se è pur vero che c'è la notizia bellissima in questo momento di tre casi di guarigione, la tensione deve comunque rimanere alta, soprattutto nei confronti di chi, e sono soprattutto le persone anziane, continuano ad uscire di casa, non comprendendo fino in fondo a quale rischio incorrono sia per loro stessi che nella possibilità di contagiare altre persone. Bisogna aumentare i controlli, ancora detto Alberto Cirio, nelle città ci sono troppe persone in strada e se necessario mobilitiamo anche l'esercito. Non si tratta di militarizzare il territorio, ma di fare capire una volta per tutte che con la salute non si scherza. Ma intanto il focus della situazione piemontese si sta concentrando anche sui tamponi, con l'annuncio che nei prossimi quattro giorni verranno raddoppiate le capacità di poter realizzare i test, che in questo modo saliranno da 5.600 a 1.200 al giorno. Quasi 9.000 quelli effettuati fino ad oggi, ma bisogna fare di più, pur attenendosi alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità che raccomanda i test solo sui casi sospetti e dunque sintomatici. Ma sarà salvaguardata in primis la salute dei soggetti più a rischio, vale a dire medici, infermieri e operatori sanitari, un esercito che solo in Piemonte coinvolge 55.000 persone. Sarà difficile tamponarli tutti, ha precisato Cirio, ma si procederà in modo graduale rispettando i parametri delle esposizioni a rischio. Una questione è quella dei tamponi che divide unità di crisi e comitato scientifico, contrario ai test di massa in quanto considerati oggi tardivi, poiché l'attendibilità potrebbe essere fuorviante, ma poi soprattutto perché nei laboratori non ci sono i reagenti necessari per tutti. Intanto in Piemonte arriveranno nuovi tecnici di laboratorio e un nuovo macchinario in grado di rilevare in maniera rapida la positività al test. In questo modo si potrà così raggiungere quota 1.200 tamponi al giorno. Ma al di là di tutti questi sforzi, ancora detto Cirio, resta comunque un'unica e sola raccomandazione. State tutti a casa.